danza e movimento scuola di danza dal 1998 fondatrice e anima della scuola la direttrice francesca scacco che nel corso di questi anni grazie a un'attenta e scrupolosa gestione è riuscita a valorizzare il talento di numerosi allievi la scuola offre a tutti la possibilità di apprendere le principali discipline coreotiche nei settori della danza classica accademica modern jazz e contemporanea hip hop break dance e canto particolare attenzione viene dedicata ai più piccoli con il gioco danza e la propedeutica danza e movimento direttrice francesca scacco via andrea palma 21 si accusa